Musica 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 Allora, due caffè normale e uno alla nocciola Musica Dopo 22 anni mi sono sposata e sono ritornata alla casetta dove sono nata Musica Mamma mia, se volete una cosa bella, mangiate questa piccola Musica 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 E' arrivato, ma hai guardato e allora tutto è cambiato per me, mi sei scoppiato dentro al cuore all'improvviso, all'improvviso, non so perché, non lo so perché, all'improvviso, all'improvviso. Grazie.